Si sblocca l'iter per la istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul terremoto, voluta con un progetto di legge dalla senatrice PD Stefania Pezzopane e sostenuto da varie forze politiche, tra cui l'Italia dei Valori. Un organismo che sarà monocamerale, di cui faranno parte solo i senatori, che si occuperà di fare chiarezza sull'intera vicenda sisma, dall'emergenza seguita alla scossa del 6 aprile 2009, alla costruzione degli New Town, alla ricostruzione dei centri storici. È a buon punto perché abbiamo acquisito il testo base, lo abbiamo discusso, si è partito dal mio testo per poi implementarlo anche con le proposte degli altri gruppi parlamentari e si è definito il testo del relatore, ora entro il 16 vanno presentati gli emendamenti, verranno esaminati gli emendamenti, se utili approvati, e poi verrà in aula. Quindi si è sbloccata abbastanza rapidamente la situazione. Io sono felice perché, come ho voluto rimarcare, in Italia c'è un'idea sbagliata di quello che abbiamo fatto e la sovraesposizione mediatica per alcuni versi ci ha nuociuto e dobbiamo riportare verità e giustizia sulle vicende della ricostruzione e chiarire quali sono stati i veri problemi, quali sono i veri problemi e naturalmente superarli. Secondo lei chi potrebbe essere il presidente della commissione parlamentare? Non ho la minima idea al momento chi possa essere perché va ancora composta, sarà comunque una commissione monocamerale solo del Senato. Grazie.